No, non la voglio! Toglimi quella pappa nausea bonda da sotto gli occhi! Ma ti piace tanto il purè di tacchino, tesoro? Scusa, che cosa hai detto? Forse non ho capito bene, tu dici a me quello che mi piace? Scriviti un appunto, brutta arpia arteriosclerotica, io adoro la torta!